La terza edizione del progetto Grandi Ospedali continua a proporre la prospettiva di costruire insieme, generare insieme esperienze e competenze per arrivare a delle proposte. Tutto questo, manager, professionisti, industria, insieme qui a Napoli, per cercare di dare un contributo al miglioramento della nostra sanità. A partire dall'esigenza di pensare a nuovi modelli, a innovazioni in senso largo e alto, a cominciare, dicevo, da nuovi modelli nel territorio ma anche nell'ospedale. E se di grandi ospedali parliamo, parliamo soprattutto di ospedale del futuro. Un futuro che nel tempo ha visto l'evolvere l'ospedale da quello che era in allora un luogo di accoglienza fino a un luogo di guarigione, quello dei secoli scorsi. Oggi come immaginiamo l'ospedale del futuro? Beh, ne parleremo, ma certamente l'ospedale del futuro dovrà essere capace di coniugare tecnologia e umanizzazione delle cure. Dovrà essere flessibile e competente. Dovrà essere capace di comprendere in sé tutto il percorso di cure, in maniera integrato e interrelato. Beh, noi pensiamo che immaginare a un ospedale del futuro così possa essere la risposta oggi anche alle situazioni di carenza, limitazione di risorse, piuttosto che di personale, di cui siamo affritti, ma che in qualche modo potrebbe trovare una prospettiva concreta di soluzione con questo ragionamento.